Dare la possibilità a chi è senza lavoro di potersi inserire nel contesto lavorativo e a chi lo ha perso di avere una nuova chance, incentivando le aziende che faranno una manifestazione di interesse a prendere l'incarico a costo zero per sei mesi come tirocinanti, dove il comune si accollerà la retribuzione di 400 euro mensili. L'assessore Marina Barniesi ha annunciato la pubblicazione di un nuovo bando anticrisi del comune di Fano per 12 persone, dove una quota rosa del 25% sarà destinata nei tirocini formativi a donne sole con minori. Parallelamente a questo bando parte anche una manifestazione di interesse rivolta alle aziende e alle imprese locali che in qualche modo sono invitate ad aderire a questo progetto che vuole rilanciare a modo suo l'occupazione anche attraverso questo tipo di modalità, diventando le aziende ospitanti dei tirocini. Ma questo non è il solo bando in scadenza riconducibile al fondo anticrisi. Altri due sono in scadenza che riguardano i figli riconosciuti da un solo genitore ed uno per accedere a contributi, compreso un notevole sgravio per Tasi e Acqua, grazie ad un accordo con Aset. Partecipare a questo bando, valutare se ci sono i criteri, significa poter avere dei contributi ma anche la possibilità di pagare bollette che non sono state pagate e quelle che sono uscite prima dell'emissione del bando. Quindi questo è importante perché non riguarda solo la prima fascia di cui ho parlato, dei disoccupati, ma una volta che saneremo le prime domande faremo riferimento anche alle famiglie che in situazione di disagio economico hanno un ISEE molto basso.